Buonasera, sono molto onorato di poter consegnare questi apparecchi per la determinazione della glicemia immediata, detti glucometri, che andranno in una comunità moldava. Il ringraziamento va anche alla dottoressa Leotti, che è la titolare della ditta Menarini, che per una estrema amicizia hanno messo a disposizione questi cinque apparecchi. Quindi con molto onore ve li consiglio. Grazie, grazie mille. Questa è la lettera di ringraziamento che noi abbiamo preparato. L'associazione ci impegniamo che il materiale arriva a destinazione e vi faremo vedere pure una documentazione adatta per la nostra società che sono arrivati. Lo potrei dire da adesso che ho preso già contatti con... Grazie a voi. Grazie a lei dell'ospitalità. Da parte della masciata, delle nostre autorità, posso dirlo da parte mia. Io la ringrazio sentitamente per questo impegno, per questo operato a favore della nostra comunità. E vogliamo e siamo fiduciosi che potremo sviluppare ulteriormente. Bene degli rapporti. Bene, grazie. Sono molto piccoli, perché sono dell'ultima generazione, sono digitali. Io mi sono raccomandato che abbiano messo dentro anche la pila, ma penso che proprio sì. Comunque sono molto piccoli, quindi sono anche portatili proprio. Ecco qui. Quindi dietro c'è la pila. È molto semplice il funzionamento. Questi sono gli stick, che ne dicevo prima. Ne apro uno per farvelo vedere. Ce ne sono cinquanta. Sì. Ecco io... Sì, sì, guarda tantissime cose. Oh! Ishi. Silentino. Clic antig Strength Absolvent離 è turni lì. Questa! Questa!